Seguiamo una mano al tavolo numero 10 Tavolo numero 10 Tavolo numero 10, seguiamo l'istituzione delle carte Vediamo che manca un giocatore al posto La telecamera Sembrava di essere direttamente al tavolo Con l'istituzione delle carte Come le mosche Sta dando la carta Alla telecamera Da parte abbiamo Sergio Castelluccio che scherza E noi seguiremo la mano di Sergio Castelluccio Vediamo insieme con la telecamera Jolly e un'altra Jolly Abbiamo seguito le sue carte Vediamo la mano, tutti i fold Zucca grande, alba, fold Zucca Sergio Trecento Non sai quanto mi piace rubare il buito? Non riesco a resistere Vedo il testo, lo buio E le mani vanno C'è il fold No E c'è il fold generale Era solo per gli amici di pocheritaliaweb.org L'ho detto bene?